Musica Noi a Trescore finito la partita, vittorio della squadra di casa per 99-95, partita a punteggio alto sin dall'inizio nella quale direi che siamo stati più avanti noi che loro per intenderci però sempre con margini molto contenuti, molto vicini nel punteggio abbiamo giocato fino all'ultimo minuto dove credo che ci siamo meritato questa vittoria contro una squadra che non ha lasciato nulla di intentato ovviamente essendo i primi della classifica per proseguire nel loro cammino ovviamente noi prendiamo una boccata d'ossigeno per vedere se si può riuscire a risalire un pochino la corrente Niente, siamo a commentare purtroppo la sconfitta una partita un po' strana, decisa alla fine da molteplici tiri liberi noi nel finale di gara non siamo stati così precisi abbiamo sbagliato molto, abbiamo sbagliato cosa dire, loro hanno fatto una buona gara e noi ci hanno fatto mettere pressione non siamo mai stati lucidi abbiamo trovato questa sconfitta quando mancano adesso nove giornate alla fine otto c'è da lavorare ancora la classifica si è compattata e siamo praticamente sette squadre nel giro di pochi punti quindi siamo ancora tutti in lotto grazie